Terremoto politico nella Lega alla Regione Abruzzo. Lascia il partito di Salvini il capogruppo regionale Pietro Quaresimale. È stato il consigliere più votato in Regione con quasi 9.000 voti di preferenza. Da oggi ha scelto di stare nel gruppo misto. Una doccia fredda che in pochi si aspettavano una decisione che cambierà inevitabilmente gli equilibri politici all'interno della maggioranza. Quaresimale masticava Amaro da quando non gli fu attribuito alcun assessorato nonostante il risultato strepitoso riportato. Affida ad una nota lapidaria la sua decisione. Mi corre l'obbligo segnalare, scrive l'ex capogruppo leghista, che è mancata un'effettiva collaborazione tra la compagine amministrativa e quell'assembleare. Alla fine ho maturato l'idea, a mio malgrado, di non sottostare più a decisioni terze che in più occasioni ho condiviso proprio per il dovuto spirito di corpo, che adesso è venuto meno. Ringrazio chi ha creduto in me, ma ritengo davvero di poter svolgere un lavoro ben più proficuo per la comunità che mi ha eletto con circa 9.000 preferenze, non avendo più zavorra ai piedi. Pronto il commento di Silvio Paolucci, capogruppo PD alla Regione Abruzzo. Prendiamo atto, scrive Paolucci, che a un anno appena dall'elezione la compagine che è stata chiamata a governare la nostra Regione è già divisa e molto indebolita, con ripercussioni sul ritmo e la qualità amministrative già molto deludenti per l'Abruzzo. In molti però sono pronti a credere che Pietro Quaresimale non resterà tanto tempo nel gruppo misto. Le sirene di Fratelli d'Italia hanno già iniziato il loro canto a magliatore.